Neri Marco Re, tornato al cinema con due uomini, quattro donne, una mucca depressa e niente po' po' di meno che con Serena Grandi. Tu sei un po' un barbiere di Siviglia che però non sei a Siviglia. Sì, sono un barbiere che sta lì in Spagna, in un posto vicino a Alicante dove abbiamo girato, ma il mio ruolo non è di protagonista. I protagonisti sono appunto i due uomini, le quattro donne e forse la mucca depressa. Io ho fatto parte di questa avventura che ha avuto varie peripezie dal punto di vista produttivo e che finalmente vede la luce a qualche anno di distanza. Sono contento che le fatiche di tutto il cast e di Anna di Francesca in primis possano avere la soddisfazione del confronto col pubblico in sala e quindi auguro a questo film molto delicato, molto ben fatto, la più grande fortuna pur uscendo in un periodo nel quale al cinema si va anche per stare un po' freschi come nei centri commerciali. Quindi non è escluso che possa fare dei numeri discreti, ma al di là di tutto resta l'onestà di questo progetto e la delicatezza e la bellezza di una commedia nella quale Anna ha sempre un tocco magistrale, delicato e quindi sono molto contento dal punto di vista personale prima di qualsiasi altro. Con Serena Grandi come ti sei trovato? Non sveliamo il finale, però avrai a che fare. Non lo sveliamo, appunto Serena Grandi è stata una delle attrici a far parte di questo cast. È sorprendente come in questo mestiere uno veda, anche quando ero piccolo, vedevo, che ne so, gente o artisti con i quali adesso mi capiterà di suonare insieme, così e così come appunto Serena Grandi, che ovviamente è legata, come si può ben immaginare, delle fantasie legate a St. Maire a certi film in particolare e ovviamente poi ritrovarsela insomma sullo stesso set è stata comunque una sorpresa all'inizio e poi è stata una piacevole conoscenza perché abbiamo condiviso qualche giorno insieme e quindi è una persona molto positiva e carina. Grazie Neri, ti aspettiamo in tv. Grazie